E allora buongiorno, buongiorno stronzi all'acqua pazza, benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete questo video omnia con tutti i tifosi della Fiorentina che è veramente importante, andiamo a sentenziare su questo nuovo arrivo. Guardatevi i video fatti, specialmente il video di ieri in cui abbiamo parlato di Supercoppa, delle contestazioni, delle uscite di Barone, Pradè, guardatevelo e ho droppato per abbonati base già il video con analisi pronosti e assistenza a fante calci per la ventesima giornata di Serie A con anche del pepitage, delle sorprese per quel che riguarda anche la partita di campionato Lazio-Fiorentina. Attenzione, hashtag attenzione, seguite le pagine amiche e andiamo con le sentenze su Brecolo, ma ci ripetiamo, ragioniamo sul già visto per capirlo meglio. Brecolo è un giocatore che al pieno della sua forma, il giocatore che abbiamo per intenderci ammirato al Torino l'anno scorso, un giocatore che mi piace, un giocatore che in Serie A aveva fatto un'ottima stagione, che vi consigliai per tempo anche al fantacalcio, quindi mi è affine. è un giocatore di qualità, che tatticamente spero non debba venire da noi, come spesso succede ai nostri esterni, e diventare l'intercapedine per le sovrapposizioni del terzino. Questo è un discorso che si lega anche a Nico e Sottil, sono tutti giocatori, anche Brecolo, che tu devi avvicinare alla porta, devi avvicinare a limitare dell'area, anche per via centrali, è gente che deve stare vicino alla porta. Se la permanenza di Kwame ha avuto un'utilità, è stata tattica, nel senso che ha contribuito, penso io, forse inerzialmente, quantomeno, a avvicinare il ruolo dell'esterno di italiano un po' di più alla porta. Ecco, io spero che questa traccia venga continuata e approfondita anche con i vari Brecolo, con Nico e Sottil, perché abbiamo bisogno di fare presenza un po' di più in area, di avvicinare il reparto, di avvicinare i giocatori che giocano nella linea davanti, magari anche superando il 4-2-3-1, perché, ripeto, è stato invocato come uno schema che ci doveva risollevare dalle situazioni di difficoltà, in realtà credo che alcune le abbianze amplificate. Vedo una squadra più spaccata, più statica, e che è uno schema che ha paradossalmente aumentato le perplessità sulla nostra mediana. E anche lì, ripeto, non è questione di schema, ma è questione di ruoli e caratteristiche. Se il centravanti non ce l'hai, non è che se cambi schema lo trovi, a meno che non giochi con le due punte, ma nel nostro caso, se il regista non ce l'hai, non ce l'hai, non è che giocando a due lo trovi, anzi, forse peggiori la situazione di un reparto piuttosto in confusione. Però, venendo alla situazione esterna, ripeto, Brecalo per me è un buon acquisto, è un giocatore di qualità, è un giocatore che ha gol nelle gambe, che ha assist nelle gambe, che ha pugni nelle mani, è un giocatore che se messo in condizione e se in condizione, nelle rotazioni, specialmente nella logica di una squadra che negli esterni, tra le varie competizioni, può ragionare in ottica di rotazioni, è un buon innesto. Le perplessità derivano dalla sua condizione, perché è reduce da una metà stagione abbastanza travagliata, non ha giocato molto, non ha segnato, bisogna vedere in che condizioni arriva. Ecco, io spero che arrivi in condizioni quantomeno recuperabili nel breve medio periodo. Non credo che arrivi e giochi dopo domani, probabilmente magari andrà a saltare anche la partita o la disponibilità della partita dopo, però ecco, spero che nel giro di tre partite, quattro partite, visti gli impegni ravvicinati, possa essere a disposizione e che soprattutto segua un percorso che lo porti poi a essere appieno nel momento clou della seconda parte di stagione, nel momento centrale della seconda parte di stagione, sperando di arrivarci ancora, essendo dentro tutte le competizioni che ci riguardano. Quindi, l'unico dubbio è quello, poi se si parla di dubbi tecnici, tattici, ne ho meno, perché può farlo esterno, sperando che italiano, ripeto, vada ulteriormente ad accentrare, a correggere le caratteristiche del ruolo. È un giocatore che se sta bene ha qualità, preferisco lui ad altri corridori da linea esterna che avrebbero anzi amplificato questa nostra problematica di esterni ridotti a fare l'intercapedia del terzino, no, a noi serve gente con un po' di qualità e visione sulla porta, banalmente anche per aumentare il ratio di assist, di gol, di individualità, capito? Poi Breccalo c'è anche un'altra cosa positiva, mio avviso, che se si decide di non comprare un centravanti, che è una cosa anche che, visti i nomi, io approvo e ve ne ho parlato ieri, Breccalo ti dà l'opportunità di spostare uno tra Nico e Cuame come centravanti, come falso 9, mettiamola così. Ecco, io lo dico qui, se questa cosa viene fatta, e da qui a maggio-giugno può anche essere una soluzione, spero lo si faccia con Nico, perché Nico ha la tecnica, ha anche la visione sulla porta, ha il senso del gol, pur non essendo centravanti, ma soprattutto ha un livello tecnico migliore di Cuame, che ogni volta che lo vedo giocare centravanti lasciamo perdere. Nico per me è più adatto, se devi scegliere un falso 9 tra i due, io scelgo Nico tutta la vita, ha più gol, ha più cattiveria, anche ha più lucidità, sottoporta. Ecco, vedere una Fiorentina con un Breccalo che torna a disposizione con forma e condizione, giocare esterno, magari in una squadra che gioca con la linea A3 dell'attacco, con Breccalo da una parte, Nico al centro, e uno tra sottili con E, decidete voi, dall'altra parte, non è male, non è male, da qui a maggio-giugno può essere una buona soluzione, vedendo cosa fanno Jovic e Cabral, e anche poi aspettando l'estate per andare a risolvere la questione, si spera in modo definitivo, del centravanti, ok? Però il mettere Breccalo come esterno e Nico centravanti, un po' mi sollucchera, sicuramente è una soluzione migliore di mettere qua me centravanti, magari tornando al 4-3-3. Quindi, riassumendo, Breccalo è un acquisto che ci sta anche perché, da quel che sembra, da quelle che sono le cifre, al netto di uno stipendio non basso, ma se è vero 1-6, la cifra anche che ci sta, lo prendi veramente a poco, anche per la situazione contrattuale che aveva. Non vai a fare mezze scelte in ruoli importanti ed estivi, non vai a prendere un centravanti tanto per prenderlo che ti occupa spazio, non vai a prendere un regista tanto per prenderlo, ma vai a prendere un esterno in un ruolo nel quale puoi anche avere un certo interesse ad ampliare le rotazioni, stante anche l'età di Saponara, per esempio, è un esterno che pigli da un'occasione di mercato, un esterno che ha una discreta esperienza internazionale che conosce la Serie A, è un giocatore che, quando è stato messo in condizione, anche fisica-mentale, di far bene l'anno scorso, ha fatto bene, è un giocatore che ti permette di sbloccare altri fosforismi tattici, speriamo, non quello di Kouamei Centravanti, ma di Nico Centravanti, che lo vedo più visionario, più capace di dare soddisfazione come impianto, quindi è un affare che ci sta, anzi, se chiudessimo il mercato in questa maniera qua, stante la situazione della squadra, per me va bene, per me va bene, poi certo, se uno si aspettava che a gennaio tu risolvessi il problema del regista e il problema del centravanti e a gennaio costruissi una fiorentina sulla carta risolta nei suoi problemi, non sarà un mercato soddisfacente, ma il mercato in gennaio non è predisposto a fare questo, anzi, rischi di pigliare le trambate, rischi di, se devi sostituire il centravanti, ne sappiamo qualcosa, magari di andare a prendere giocatori che poi non ti risolvono fino in fondo la situazione, idem per il centrocampo, è una cosa su cui siamo cascati già non solo l'anno scorso, ma anche il famoso anno nel quale arrivarono i Duncani, i Quamevia, dicendo spendemmo un pacco di soldi per molti giocatori che poi alla fiorentina, a parte Amrabat, non hanno avuto una continuità, quindi, stante la nostra situazione, stante una situazione anche di difficoltà, stante molte scelte che dovremmo fare, compiere e vedere a maggio-giugno, se il mercato si chiude con il solo Brecalo, per me ci può stare, e comunque Brecalo è un innesto che ci può stare, le uniche riserve riguardano la condizione fisica e mentale del giocatore, ecco, io spero che non si sia andati a prendere un altro che, prima di vederlo in campo a regime devi aspettare, o un altro che si rompe sempre, o un altro che ha problemi a fare due-tre partite di fila, tre-quattro partite di reggimentamento, sono concesse, per carità di Dio, vista la situazione da cui proviene, vista la nuova realtà, vista la mole di informazione che poi l'italiano dà spesso ai giocatori, per carità di Dio, tre-quattro partite possono essere concesse anche di inattività, però poi che entri a regime, anche per farci un'idea in vista di quello che sarà il calciomercato estivo. Come giocatore, quello che ho visto rendere, giocare, esprimersi l'anno scorso, mi è piaciuto, non era lo stesso sistema tattico, ripeto, perché un conto è giocare nel 3-4-2-1 di Juric, un conto è giocare nel 4-3-3 o peggio, in sto 4-2-3-1 di italiano, spero che le sue caratteristiche aiutino, oltre che sul campo fattualmente, anche in modo indiretto, ad accentrare verso la porta la concezione che l'italiano ha degli esterni. Questo sarebbe anche un ulteriore plus che porta, però per fare questo ovviamente deve essere in forma, deve essere in condizione. al giocatore non mi dispiace, non mi è mai dispiaciuto anzi, giocatore di qualità, meglio che di tanti altri corridori, nel ruolo che poi avrebbero solo che aumentato magari questa difficoltà interpretativa, ho aggiunto poco. Ditemi cosa ne pensate voi, leggo i vostri commenti, e un caro saluto.